Bene, bene ragazzi, benvenuti in Excel Magico numero 154, benvenuti nel terzo video dedicato alle Power Query. Oggi ragazzi parliamo niente meno del strumento aggiungi, strumento che come dice la parola stesso serve per attaccare, per unire, ma in gergo direi per connettere. Andiamo a connettere questi tre fogli qua. In questo caso qua sono fogli che fanno parte della stessa cartella di lavoro, che fogli che io tra le altre cose ho già preparato. Sono tre anni di vendita, ok? Abbiamo tre grossi database da andare a connettere tra di loro. Ovviamente lo facciamo con le Power Query che servono non solo per connettere ma anche per pulire i dati, per trasformare i dati. Per ottenere poi alla fine una grossa tabella o una connessione senza metterlo dentro in Excel, per poi mettere il tutto all'interno di tabelle pivot. Ecco ragazzi, tanti di voi si stanno chiedendo ma perché non facciamo tutto col vecchio sistema tradizionale del copia e incolla, mettere tutto all'interno di una tabella per poi agganciarci una bella tabella pivot. Bene, quello è un metodo, un metodo che funziona, un metodo ottimo. Quello che vi farò vedere io è un altro metodo, per cui il mio non è un metodo universale che esclude l'altro. Perché sappiamo che comunque con Excel non c'è mai sempre lo stesso modo per fare la stessa cosa, ok? Ci sono diversi modi, ma tuttavia vi consiglio di imparare il metodo, diciamo, delle connessioni con le Power Query perché poi in un'ottica futura, quando andremo a lavorare con fonti esterne, quando andremo a lavorare con file magari di estensioni diverse, connettere, diciamo, tutti i dati diventa molto difficile. Bene, qui è facile perché stiamo lavorando dentro Excel, stiamo lavorando con tabelle e intervalli, ma quando lavoriamo con fonti esterne, noi non mettiamo i dati dentro Excel. Dalla fonte esterna la mettiamo direttamente dentro le Power Query, per cui dobbiamo essere in grado a fare le connessioni, ok? Questo video qua appunto serve proprio per imparare a fare le connessioni per un'ottica più futura, per lavorare poi appunto con fonti esterne. Bene ragazzi, vediamo cosa abbiamo qui. Qui abbiamo tre fogli che corrispondono a tre annate di vendite di automobili. Ecco, facendo il controfecchetto in basso, vediamo che abbiamo 4000 records o 4000 riga, che dir si voglia. Questo è un database molto grosso e ecco, io per comodità ho fatto tutti e quattro, anzi tutti e tre, diciamo, i fogli di 4000 record, in modo tale che poi, se voglio fare eventuali controlli, faccio in fretta a fare le varie somme. Questo qua è il classico database con, diciamo, i campi nelle colonne e i records nelle righe. Ecco, adesso andiamo a cercare di creare una connessione tra i vari fogli, ok? Ancora prima però ragazzi, vi do un piccolo consiglio. Ecco, finché si può, finché siamo dentro Excel, vi consiglio sempre di pulire i dati il più possibile. Cioè fare attenzione che sempre le intestazioni di campo siano scritte in maniera corretta su tutti i fogli. Fare attenzione che magari se manca qualche colonne o se c'è qualche colonne in più. Ecco, fare una serie di controlli, perché ovviamente poi quando andiamo a importare tutto all'interno delle Power Query diventa facile, diciamo, gestire poi il database. Ecco, ho detto finché si può, perché ovviamente se noi andiamo a importare i dati da un database esterno, non riusciamo a gestire gli errori prima, dobbiamo gestirli all'interno comunque delle Power Query. E quindi dobbiamo iniziare a imparare a utilizzare bene le Power Query e a gestire eventuali errori. Ecco, io a tal proposito ho voluto mettere, ho voluto inserire degli errori, ok? Se voi andiamo qua, l'anno 2017, notate che qua ad esempio c'è scritto Unità con l'accento sulla A e la U maiuscola. Così anche nel 2018, vedete? Mentre nel 2019, vedete che ho scritto Unità senza la U maiuscola e la A accentata. Ecco, vi dico subito una cosa, questa qua è la regola numero 1, la regola più importante di tutti. Se l'intestazione di campo non è scritta allo stesso modo che è scritto sugli altri fogli, o sulle altre tabelle, sugli altri intervalli, non si matcherà mai, perché l'unico modo per abbinare i vari campi, che provengono da qualsiasi fonte, è sempre ed esclusivamente il nome del campo. Questa è la regola importante. Ecco, perché lui abbiene i campi non in base alla posizione del campo, ma in base al nome del campo. Ecco, attenzione che il nome del campo è Case Sensitive, cioè lui tiene conto anche delle maiuscole e minuscole, per cui qua avrei dovuto mettere la U maiuscola e qua la A accentata. Ovviamente io torno indietro perché poi vi farò vedere come gestirlo all'interno delle Power Query. Poi ho messo altri errori, come ad esempio ho messo qua nel 2018, vedete che qua ho messo una colonna in più che è attaccata, che viene presa ovviamente dalle tabelle e ovviamente vediamo come gestire questo tipo, diciamo, errore. Vediamo come gestirlo, vediamo cosa viene fuori. Volevo farvi dire, ecco, un'altra cosa importante. Vedete che qua abbiamo unità costo e totale. Qua 2018 unità costo e totale, mentre qua nel 2019 abbiamo unità e costo, manca una colonna, ok? Che sarebbe praticamente la moltiplicazione tra le unità vendute e il costo dell'unità, ok? Ecco, se siamo in Excel poi siamo sempre in tempo a farlo, se ce ne siamo accorti, altrimenti lo facciamo all'interno delle Power Query. A questo punto direi di andare avanti e trasformare questi intervalli qua in tabelle. Bene ragazzi, adesso trasformiamo appunto questi intervalli qua in tabella, semplicissimo, qui con qualsiasi punto del nostro intervallo. Anzi, facciamo una cosa, posizioniamoci qua nella prima, nel 2017. Ecco, do un ordine cronologico, giusto per non confondermi. A questo punto andiamo qua in dati. Ecco, potremmo andare anche qua, inserisci tabella, ma facciamo un passaggio in meno, andiamo direttamente qua in dati e me lo trasformo da tabella a intervallo. Ecco qua, vedete? Do un piccolo controllo, vedete che abbiamo 4.001 righe, questo qua è quello che fa per noi. Ecco, mi raccomando, spuntate tabella con intestazioni, perché le intestazioni sono molto importanti, che è l'unico modo per abbinare le colonne. Do l'ok. Ecco qua, vi diamo un nome, lo chiamiamo vendite, vendite 2017. A questo punto non facciamo nient'altro che fare cariche e chiudi. Ecco qua, non facciamo solo cariche e chiudi normale, perché altrimenti lo caricheremo in un foglio, ma noi andiamo a creare una connessione. Per cui, chiudi e carica in, mi viene fuori il pop-up dell'importa dati, e andiamo a creare solo connessione. Da questo momento in poi, ecco qua, do l'ok, mi si aprono qua appunto la finestra delle connessioni, abbiamo creato la prima query. Ovviamente è solo connessione, vuol dire che è, diciamo, in memoria nel nostro computer. Ecco, stessa cosa nel 2018, facciamo un po' veloce. Crea solo connessione, ok. Abbiamo creato le tre connessioni, adesso queste connessioni qua le dobbiamo aggiungere, attaccarle una con l'altra, ok? Creiamo una unica connessione. Come facciamo a fare questo? Vado qua in alto, nella prima in alto, o anche l'ultimo non è un problema, mouse destro, andiamo qua a cliccare a coda. Ecco, attenzione un attimo, qui si parlava di aggiungi, perché c'è scritto a coda? Eppure ragazzi, se io vado qua in dati, e vado qua in ricupera dati, sono sicuro che c'è scritto aggiungi, vedete? Non so perché qua me lo chiama aggiungi, e qua me lo chiama a coda. Beh, i signori della Microsoft intanto besticiano su queste cose qua. Beh, questa qua sicuramente è una cosa che io potrei segnalare, infatti se vado qua in alto, su dove c'è il faccino, posso anche dare il mio feedback, e magari lo sistemeranno. Comunque, mouse destro, a coda. A coda che cosa? Vedete che qua mi viene a fare un pop-up, e mi dice due tabelle o più di tre tabelle? Io direi tre tabelle, vediamo che possiamo accodare la prima è stata già inserita, ci clicco sopra la seconda, aggiungi, la terza, aggiungi, ok. Bene ragazzi, sembrerebbe tutto a posto, se non che magari cambiamo il nome, scriviamo totale, ok? Bene, a questo punto ragazzi, ecco qua, do l'invio ovviamente, ecco qua, mi cambia anche il nome qua sotto, faccio carica, carichi e chiudi, crea solo connessione, ok. Bene, abbiamo collegato, diciamo, in questa query qua, tutte e tre queste query qua, ok? Quindi io vorrei sapere esattamente quanti righe sono state caricate, ebbene qua sotto non è stato dato a sapere quante righe ci sono. Ecco, se fosse stato caricato in una tabella, dovrebbe avervi detto, ok, sono state caricate 12.000 righe, ma in questo caso qua, io non so quante righe ci sono. Come faccio a saperlo? Bene, c'è un trucchetto, anche se i signori di Microsoft, secondo me, dovrebbero migliorare un pochettino queste cose qua, nel senso che, se voi vedete qua, in una barra di stato, c'è scritto 999 più righe, vuol dire che comunque sono state caricate più di 990 righe, ma a questo punto potevano scriverci esattamente quante righe avevamo caricate, perché questo dato qua non ci serve assolutamente. Quindi per cui come faccio a saperlo? Bene, verrebbe spontaneo come si fa in Excel andare qua in basso e scendere, ma qua è molto, molto, molto più lento di Excel, cioè andare giù da basso, a vedere quante righe ci sono, ci mette veramente tantissimo tempo. Quindi per cui ho scoperto un nuovo sistema, andiamo qua nella scheda trasforma, vedete? Vedete qua, conteggio righe, ci clicco sopra, vedete cosa viene fuori? 12.000 righe, ok? Sono soddisfatto perché abbiamo 4, 4 e 4, 12, a questo punto, questo passaggio qua non ci serve più, era solamente per una briga, cancelliamo, ok? Siamo tornati indietro. Bene, a questo punto iniziamo a trasformare il nostro database. Ad esempio, questa colonna qua, colonna codice, vedete qua anche il tipo di dato è corretto, però questa colonna codice qua non ci serve, perché non mi serve da mettere all'interno delle tabelle pivot per poi analizzare i dati, ok? Un dato che non mi serve lo togliamo. Ecco, il prodotto sì, mi serve perché mi serve ad analizzare il tipo di prodotto. Ecco, il colore non mi serve. Ecco, la data di vendita, questo qua, sì, mi serve. Ecco, controlliamo sempre il tipo di dato perché in questo caso qua vedete che abbiamo data e ora a me serve solamente la data, per cui andiamo a scegliere il tipo di dato. Qua, vedete, mettiamo solamente data. Ecco, notate che man mano che faccio alcuni passaggi lui mi deve iscriverli, se abbiamo sbagliato possiamo tornare indietro. Ecco, il venditore, questo qua, sì, è un dato che mi serve poi per analizzare, però vediamo che possiamo migliorarlo nel senso che vedete che qua abbiamo delle maiuscole, delle minuscole, possiamo fare l'iniziale maiuscola, facciamo mouse destro da qua in alto da intestazione, andiamo qua in trasforma e andiamo qua in converti in maiuscolo. Ok? Ottimo. La zona, sì, è un altro dato che mi serve. L'unità, sì, mi serve. Ecco, il costo unitario non mi serve perché non mi serve assolutamente. Ecco, sicuramente mi serve il totale e poi vediamo che qua abbiamo delle colonne, una c'è scritto addirittura intestazione di campo, colonna 1 che si è autogenerato da solo e mi dà una serie di null. Ecco, null non è un errore, mi dice semplicemente che è vuoto. E qua abbiamo la nostra bella, fatidica colonna, la colonna con il campo unita che ovviamente era da mettere qua insieme. Ok? Bene, ragazzi, come primo errore andiamo a verificare questo qua, colonna 1 perché c'è un errore. Come faccio a capire qual è l'errore? Beh, verrebbe spontaneo scendere giù da basso a vedere ma abbiamo 12.000 righe ovviamente diventerebbe un casino. Ecco, l'unico modo per controllare secondo me è dai filtri. Guarda, questo filtro qua vedete andiamo a caricare altro vedete che lui mi trova bla ok? Per cui questa colonna qua in questa colonna qua c'era solamente un bla per cui è una colonna che a noi non serve è stata autogenerata perché c'era quel bla che vi ho fatto vedere prima per cui questa colonna qua la possiamo togliere elimina anzi facciamo rimuovi. Ecco ragazzi per quanto riguarda questo campo qua vedete che abbiamo una serie di null vuol dire che abbiamo una serie di vuoti ok? Superiamo che noi non sapessimo che qua ci fosse stato un errore noi come facciamo a risalire? Bene, la prima cosa da fare ovviamente è quella di vedere l'intestazione di campo cercare se c'è qualche similitudine con gli altri campi ok? Per cui unita va bene con unità ok? Questo è qua il primo passaggio poi il secondo passaggio da fare è andare a controllare il tipo di dato qua ad esempio abbiamo 1, 2, 3 che è uguale qua a 1, 2, 3 però magari qua potrebbe esserci stato scritto non so A, B, C e qua 1, 2, 3 per cui non ci sarebbe stata un'esatta corrispondenza col tipo di dato e mi avrei dato una colonna in più voglio capire se sotto in basso tutti i dati sono null perché se tutti i dati sono null a questo punto eliminiamo la colonna ma ovviamente se sono null vuol dire che sono vuoti qua ma sotto ci sarà qualcosa infatti se io vado qua il filtro vedete che io se faccio carica altro notiamo che abbiamo una serie di 1, 2, 3, 4, 5 che erano il numero dell'unità ok? vedete erano quelle che c'erano qua per cui iniziamo a capire che comunque c'è qualche similitudine e questo campo qua potrebbe essere questo qua però io non sono soddisfatto voglio ulteriormente indagare voglio investigare voglio capire se veramente questo nullo qua corrisponde solamente per dire all'anno 2017 ad esempio con i filtri ad esempio io potrei filtrare ordinamento decrescente vediamo che dal 2019 notiamo subito che ad esempio qua ci sono i numeri dentro unita ma dentro unità non ci sono i numeri per cui è un altro indizio che mi fa capire che forse questa colonna qua bisogna mettere insieme a questa colonna qua ecco se vogliamo fare ulteriori filtri possiamo andare ad esempio abbiamo fatto il 2017 il 2019 se vogliamo vedere il 2018 togliamo ad esempio questo ordinamento andiamo a filtrare per data ad esempio qua filtri per data vedete ho filtro per date ecco ci sono diverse opzioni ovviamente quella che fa il mio caso è tra tra che cosa ecco qua e dopo uguale a che cosa all'11 2018 giusto per vedere se nel 2018 c'era lo stesso problema e prima di o uguale a che cosa al 31 12 2018 ok do l'ok e vediamo che anche nel 2018 vediamo che mi dava null per cui il problema era nel 2019 ok togliamo i vari filtri ecco qua rimossa colonna rimettiamola con la colonna lì anzi quale che era mi sono confusa ecco questa qua rimuoviamola ovviamente bene a questo punto ragazzi verrebbe spontaneo andare qui in altro nell'intestazione di campo e scrivere lo stesso campo come scritto qua vedete unità unità però mi dà ovviamente errore perché non si può scrivere da qua ecco verrebbe spontaneo magari tornare in Excel e chiudere tutto quanto qua andare a cambiare l'intestazione di campo in Excel ma non si può fare perché ad esempio queste query qua sono state già salvate come connessioni se fossero state salvate come tabelle me le avrebbe preso ma visto che è stata considerata come connessioni non si può fare per cui non si può fare da qua non si può fare dentro Excel ma si può fare semplicemente dalla vecchia query per cui chiudiamo e salviamo questa qua ok chiude e carica ok andiamo questa qua in vendite 2019 vedete a questo punto io cosa faccio anziché unità unità scrivo unità unità con l'accento sulla do l'ok a questo punto andiamo nel totale andiamo a vedere se abbiamo risolto il problema e vediamo che quel null che è tanto fastidioso non c'è più perché è stato incorporato qua dentro unità ecco ragazzi sembra che sta andando tutto per il meglio se non che io voglio dare un ultimo controllo finale e come faccio a controllare bene sappiamo che questi fastidici null potrebbero essere la causa di possibili problemi e infatti io cosa faccio vado a controllare ogni campo e laddove trovo null ecco qua vado a carica in inizio a preoccuparmi ecco qua non c'è perfetto per cui non ci sono dati non messi ecco qua vediamo un attimino vediamo se c'è qualche null non c'è nessun null vuol dire che ci siamo ecco costo unitario con questo qua non ci serviva non so perché è ricomparso forse per sbaglio ho cancellato qualche passaggio che non dovevo andiamo a controllo qua totale andiamo qua carica altro ops c'è un null perché c'è null non so ragazzi se vi ricordate bene ma abbiamo messo mancava il totale nella 2019 infatti se io vado a filtrare qua per data che avevo fatto prima andiamo in ordine decrescente vediamo che qua abbiamo i null ok i null che corrispondono al totale perché nel foglio 2019 io non avevo messo il totale ok e infatti lui non mi riconosce mi da null ecco rimuoviamo il movimento che abbiamo fatto prima togliamo il filtro bene in questa cosa qua dobbiamo aggiustare ovviamente all'interno di questa connessione qua ok per cui qua chiudi e salva andiamo nella 2019 l'apriamo vedete che qua mi manca l'ultimo campo ecco qua vedete abbiamo unità e costo unitario ecco come facciamo moltiplicare l'unità con il costo unitario è semplicissimo teniamo premuto il tasto control selezioniamo tutti e due i campi andiamo qua in trasforma anzi in aggiungi colonna vedete che qua c'è questa bella icona qua ci andiamo a cliccare sopra e andiamo a vedere di cliccare multipla vedete lui mi ha creato un'altra colonna che ovviamente dobbiamo ricordarci come era esattamente il nome perché se lasciamo moltiplicazione ovviamente non c'è un match ok assicuriamoci anche che il tipo di dato sia corretto cioè il numero faccio un doppio clic e in questo caso qua lo chiamiamo totale perché so che si chiama totale mi ricordo anche di mettere la T maiuscola in inizio perché questo qua è case sensitive cioè tiene conto anche delle maiuscole e minuscole per cui totale ecco qua do un bel salva andiamo qua in home chiudi e salva quando qua poi torno in totale eccoci qua andiamo a fare un doppio clic andiamo a vedere se si è messo il totale ecco qua andiamo a vedere se c'è qualche null andiamo qua no non c'è più null vuol dire che sono stati caricati correttamente ok salva e chiudi e il gioco è fatto bene ragazzi a questo punto non ci rimane intanto a che creare la nostra bella tabella pivò la tanto attesa tabella pivò andiamo a cliccare ovviamente qua sul totale perché ci interessa il totale con il mouse destro vedete vado a cliccare carica in e come pre magia mi viene fuori il vecchio importadati di prima in un rapporto di tabella pivò vado a scegliere in un nuovo foglio e do l'ok avete visto che mi si è aperto un nuovo foglio non so se qualcuno ha notato ma da solo connessione la query è diventata con 12.000 righe caricate questa è sicuramente una buona cosa anche perché da questo momento in poi noi possiamo andare a modificare eventualmente aggiungere altri dati sulle nostre tabelle ecco prima non si poteva fare per il semplice motivo che quando sei in solo connessione non puoi assolutamente modificare i dati lui non te lo permette ok quindi a questo punto creiamo la nostra bella tabella pivò mettiamo non so possiamo mettere il prodotto anzi facciamo una cosa mettiamo prima la data la mettiamo qua eccola qua la data mi da anni, trimestre e mesi vedete facciamo così giusto per farvi vedere ma sinceramente media e trimestre non interessa possiamo buttarlo fuori dopodiché mettiamo non so il totale ovviamente questo si mette ma lo mette qua nei valori ok e poi mettiamo una condizione qual è la condizione possiamo mettere o il prodotto o il venditore o la zona io metterei il venditore ecco qua lui me l'ha messo qua sotto ma mettiamolo qua vedete abbiamo creato una tabella pivò di tipo end cosa vuol dire end che lui praticamente mi ha visto due criteri il primo criterio ovviamente è il venditore il secondo criterio è la data anzi ci sarebbe un altro criterio di tipo or per cui o l'anno o il mese per cui due criteri di tipo end volendo possiamo mettere anche altri criteri possiamo mettere non so il prodotto qua ma secondo me poi dopo diventa un po' confusionale possiamo mettere la zona qui ma poi insomma i dati diventano sempre più difficili da leggere eventualmente se vogliamo mettere più condizioni possiamo usare tranquillamente i filtri infatti io ci clicco qua sopra qua sopra in alto c'è il menu contestuale delle tabelle pivò ecco qua vado a scegliere vedete inserisci filtro dati e posso mettere altri filtri ad esempio se qui c'era il venditore io posso scegliere il filtro non so della zona questa qua è un'altra condizione è la terza condizione poi mettiamo un'altra condizione mettiamo il prodotto ok per cui abbiamo una condizione qua che sono diciamo i concessionari l'altra condizione qua che sono gli anni insomma condizioni di tipo end poi abbiamo un'altra condizione di tipo end per cui anche il prodotto e eventualmente anche diciamo la zona infatti se dovessi magari filtrare per per zona ad esempio scegliamo il Lazio vediamo che stringiamo sempre più il campo e magari se oltre al Lazio andiamo a scegliere magari non so l'automobile che ci interessa non so la Fiat 500X vedete che abbiamo fatto un ulteriore filtraggio ok per cui quattro condizioni prodotto zona abbiamo il concessionario e l'anno o i mesi ok ecco vediamo che ad esempio le Fiat 500X nel Lazio nel mese di marzo sono state vendute a valore di 168 mila euro direi non male a questo punto diamo un piccolo formato alla nostra tabella pv mouse destro andiamo a cliccare formato numero andiamo a scegliere valuta magari togliamo i decimali e lasciamo l'euro che va benissimo così bene ragazzi è arrivato il momento di fare il test finale anzi facciamo una cosa togliamo le condizioni che ci danno per il momento solo fastidio togliamo anche l'altra condizione diciamo così togliamo questo eccolo qua mouse destro taglia ecco a questo punto qua ragazzi andiamo a fare il test finale cioè andiamo a aggiungere altri record e vediamo se si aggiorano ecco magari giusto per vedere facciamo un test mettiamo qua nella concessionaria 4 ruote sll nell'anno 2017 andiamoci a mettere non so un numero gigantesco andiamo qua in 2017 ecco qua questo qua è il nostro database ecco qua nel record 4000 nella riga 4000 2002 ecco ci mettiamo innanzitutto qua per fare tab allungare la nostra tabella facciamo tab e non so scriviamo le varie cose che ci interessano questo qua non ci interessa questo qua non ci interessa ecco qua la data sicuramente ci interessa copiamo control c control v ecco copiamo ecco giusto per fare veloce ecco 4 ruote sll control c control v la regione non ci interessa per il momento ecco qua mettiamo il totale numero gigantesco facciamo così mettiamo un numero gigantesco doll ok ecco adesso andiamo qua nella tabella pv anzi spostiamo magari diamo anche un nome rinomina scriviamo pt come tabella pv a questo punto notate questo numero qua quando do il refresh vedete aggiorna boom ho dato questo numero gigantesco bene ragazzi questo video qua è stato molto lungo ho parlato forse un pochettino troppo spero che vi sia piaciuto comunque il video che sia stato esaustivo spero che vi sia utile magari per i vostri progetti ecco ragazzi vi consiglio di provare 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 questo esercizio qua perché solo provando poi imparate perché guardando solamente i video non è che si impara molto bene ragazzi se vi è piaciuto ovviamente mettete un like iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video